rieccoci eccoci di nuovo qui in vostra compagnia oggi siamo in modalità casalinghe disperate comunque un po di ginnastica la possiamo sempre fare facciamo un paio di esercizi per la cervicale così rilassiamo un po i muscoli del collo allora teniamo le braccia rilassate rimanendo comodamente seduti e mento indietro buttiamo fuori l'aria ci voltiamo lentamente verso destra inspiriamo ritorniamo a guardare avanti buttiamo fuori l'aria ci voltiamo verso sinistra e inspiriamo per tornare al centro lo ripetiamo una decina di volte poi possiamo fare le inclinazioni avviciniamo l'orecchio alla spalla prima da una parte buttiamo fuori l'aria inspiriamo per tornare e poi lo ripetiamo da un'altra parte